Anche quest'anno è arrivato il momento di fare il decluttering di tutte le mie borse, scarpe e vestiti di russo. Purtroppo mi sono resa conto che ce ne sono diversi che non utilizzo e quindi meglio dargli una nuova vita vendendoli. Come ad esempio questi stivaletti di Louis Vuitton che ho usato pochissimo perché preferisco sempre gli UGG. Questa borsa di bottega Veneta che è bellissima ma per me è super scomoda. È davvero troppo pesante. Poi vendo anche il maglioncino di Gucci perché non lo uso mai. Il portafoglio Boy di Chanel che mi ha stancata. E anche l'anello Love di Cartier perché l'avrò messo in tutto due volte. Le Jimmy Choo Tacco 12 che non riesco proprio più ad utilizzare. E anche altre borse e scarpe che non metto davvero più da anni.